Monte Labate presenta la 78esima edizione della Sagra delle Pesche, un evento dedicato ad un frutto simbolo del comune che nell'arco della storia è stato dono e delizia di duchi e noti personaggi dei secoli passati. Una ricorrenza dunque all'insegna della tradizione ma anche del divertimento. La 78esima edizione, la Sagra nasce nell'immediato dopoguerra nel 1946 e nasce per volontà di un gruppo di peschicoltori, di contadini locali, di coltivatori locali che pensarono così di creare questo evento, questo momento in cui si potesse dare risalto a questo frutto che era il frutto appunto che dava maggiore soddisfazione alle loro fatiche, alle fatiche di tutto l'anno. La Sagra nasce nel 1946 ma Monte Labate e le sue pesche è celebre dal rinascimento almeno per questo frutto, è un frutto antico, sappiamo che nel 500 i conti di Monte Labate mandavano le loro pesche in omaggio ai duchi di Urbino e ad altre personalità dell'epoca e quindi una tradizione che viene da lontano e che è stata valorizzata appunto nel secondo novecento attraverso questa Sagra. Una Sagra, quella di quest'anno, preparata un po' in corsa, la Giunta si è insediata da meno di un mese, però crediamo che sia doveroso insomma impegnarsi per far vivere e per far crescere questa manifestazione importante per il nostro territorio. Sì, l'ho vissuta anche da Presidente dell'Associazione Monsabatis e quindi da Presidente, da membro di una realtà che da sempre si occupa di valorizzazione territoriale, oggi avere la responsabilità insieme agli altri, non solo all'amministrazione comunale ma insieme alle altre realtà locali, la responsabilità di allestire, di portare a casa questo evento è una responsabilità che sento più forte ancora. Tre giorni di incontri, di musica, di tradizioni, si incomincerà il 26 di luglio, venerdì 26 luglio con una cena paesana, una cena curata dalle nostre associazioni, Proloco e Hauser che sono i partner principali di questa manifestazione, partner che affiancano l'amministrazione comunale e aiutano appunto nell'organizzazione generale della Sagra e poi due giornate all'insegna appunto delle nostre tradizioni più care, quindi la banda, l'inaugurazione con le autorità, l'orchestra, il ballo e poi anche la ristorazione, la gastronomia.